Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e siamo tornati qui a giocare a Osflipper raga qui nella baracca dei poveri praticamente Siamo sì, questo è il nostro ufficio, cioè io dico uno che passa da questa strada, vede questo ufficio, secondo me ci va lontano perché si aspetta di vedere i fantasmi Non un'impresa di pulizie, tra l'altro abbiamo lasciato anche il nostro bellissimo lavabo fuori, ma non è questo il problema Detto questo ragazzoli, io prima di partire con il video vi ringrazio per i like, per i commenti che lascerete, per il supporto che state dando e che darete a questa serie Detto questo, signori miei, partiamo con il video di oggi Ok, questa è la nostra bellissima casa, che è una cosa inguardabile, signori, riusciamo a fare un po' di pulizia? Riusciamo a fare tiendi peronuto per sollevare, ma io lo voglio buttare Aspettate un attimo, io se non sbaglio dovrei avere il mocio magico, il mocio magico che tutto pulisce con un sol tocco di magia Ecco sì, ok, questa l'abbiamo pulito, quantomeno, mamma mia, com'è che il computer non è tutto zozzoso, non ne ho la più palla di idea La nostra sedia è inguardabile, la butterei questa sedia, però ce la teniamo Posso pulire anche la motosega? Che no, 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 il nostro letto è disfatto, ma lo lasciamo disfatto Quel poster lo lasciamo lì, che è carino Qua nel bagno, se non sbaglio, c'è lo schifo dell'universo, può essere? Sì, infatti, qui da maschietti abbiamo sbagliato il buco, però va bene Puliamo lì, puliamo le mattonelle, puliamo queste... no, questa muffa di qua, il nostro mocio non riesce a levarla, perfetto Questa riesce a levarla? Sì, ok, stiamo un attimino pulendo casa nostra, signorini Mamma mia, che brucca, ci mancano le tappelle Ma dove l'abbiamo trovata questa casa? Se voglio liberarmi della mio schifo, appunto, it Cioè, è terribile, signorini, riesce a pulire questo schifo che c'è lì nell'angolo? Un poco, un poco l'abbiamo pulita Va bene, va bene, continueremo la pulizia di casa nostra un'altra volta, raga Vediamo un attimino di... vediamo se c'è qualche altro lavoro per noi Oh, tre messaggi di posta Allora, un po' di ghiaia e arbusti Termosifoni, pulizia... andiamo da Carolina Salve, oppure a breve dobbiamo mettere ordine in garage Per favore buttate via tutte le scatole Rifiuti vecchi e pneumatici Non mi piace di lavare anche la finestra E gli attrezzi meglio lasciarli dove sono A mio marito non piace se gli dispostano e poi non riesce più a trovare Che cos'è? Non è una caccia al tesoro Se gli tocchiamo le cose il marito si confonde Inizia a urlare casa a casa che non trova più gli attrezzi Va bene, accettiamo questo lavoro ragazzi E vediamo un attimino che dobbiamo fare Ok, ci siamo Siamo a casa della tizia Che ci ha chiesto di ordine nel garage Salve, mi fai entrare? Uuuuh, addirittura Se fu sera e fu mattina Mamma mia, cambia c'è pure il motore in questa sala cinesca Uuuuh, e che cosa c'è da fare? Terrei lì direttamente qui praticamente Ok, abbiamo un po' di lavoro da fare Dobbiamo buttare tutte le scatole Prendi per gettare Dai è così, butta tutto Raga, questo è un lavoro facile Dai, dobbiamo semplicemente buttare tutta l'impresa Premi per gettare Sì, buttiamo tutto Buttiamo tutto Sì, 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 sì Gli attrezzi non li vuole toccato il marito Se no inizia a urlare Premi per sollevare No, dobbiamo semplicemente buttare No, 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 no Dobbiamo semplicemente buttare tutto Quanto, signore, via questi scatoloni Che cosa fa il marito? Il fruttarolo Premi per gettare Quante cassette di niente ci sono? Forse hanno fatto dei trasloghi E quindi hanno lasciato tutte le cose qui Però dico Io vorrei sapere in maniera molto carina Dove se li sta mettendo tutti questi scatoloni Però non facciamoci domande Guarda, se fosse così facile pulire praticamente il garage Dire, oh cara, vado a pulire il garage Devo eliminare tutti gli scatoloni E come fai? Così, con un semplice click del mouse Spariranno tutti contemporaneamente Cioè, questi pneumatici sono nuovi? Questo no Premi per gettare, premi per gettare Questo è buono, questo è buono Questo è buono, questo è buono, ok Fosse così facile poter fare pulizia a casa? Guarda, raga Penso che tutti avremo delle case pulite splendenti Non che voi non avrete delle case pulite splendenti Non lo metto in dubbio Però, dico Così sarebbe ancora più facile Riesca a gettare queste cose? No, mi devi gettare il sacco Bravo, così le biciclette cadono a terra Sì Nuovo punto abilità Oh, ok Stiamo facendo dei punti abilità così Come niente Ottimo Le biciclette rimangono sospese Attaccate al sellino Ma la magia Della magia C'è qualcos'altro da sistemare? No Datemi il mio mogio-mogio E puliamo tutto qua a terra Mamma mia Questi sono andati a fare il rally Praticamente E sono tornati a casa con la macchina sporca Tutta sporca Tutta sudica Pulisci, pulisci zio Si leva pure tutte le impronte di macchina Leva tutte cose Là dietro Dai, dai, dai Puliamo, 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 puliamo Ha frenato Dico io Se entri in garage Dovresti entrare a una velocità moderata Questo è entrato tutto sparato Ha tirato una frenata Che a momenti ci schiandava a muro Però vabbè Ognuno a casa propria Fa quello che cosa vuole Quello che più gli aggrada Dai, dai Pulisci così Pulisci così Dai, puliamo qui Questo è stato un altro lavoro facile Raga Andiamo avanti piano piano Con il gioco ragazzi miei Facciamoci piano piano missioni Così vediamo di farlo durare tanto Così più ci appassioniamo Più siamo a seguire queste imprese di pulizia Che dico Così Ci divertiamo tutti quanti assieme Questa la leviamo pure Anche se ne era segnalata Qua c'è un altro vomito Che andiamo a levare Ok Ah, qui c'è uno scatolone Volevi fregarmi Scatolone E io mo ti butto No, mo ti butto No, non voglio la bicicletta Voglio buttare la scatolone Ok Cosa mi è rimasto da fare? Dobbiamo pulire la finestra La posso pulire da fuori la finestra? La pulisco sempre col mocio magico? Mi sono piantato nella iola La posso pulire sempre col mocio magico? Penso di sì Vediamo se la posso pulire col mocio magico Mocio magico Pulisci la finestra La pulita? No, ma è da dentro che la devo pulire Il segno di sporcizza mi viene dato da dentro Quindi mi sa che La dobbiamo pulire da qua Riesco a pulirla E per Lava la finestra No, devo ammaccare Ah, devo ammaccare Ok Tieni premuto per pulire la finestra Addirittura Ma siamo dei pro, raga Quando l'abbiamo comprato il folletto Non ricordavo che avessimo pulito il folletto Per lavare la finestra Che cosa carina Sì, scendi Bravo, bravo Ok, gira Dai, è così Il folletto lava a finestra Dai, è così Dai, 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 dai Sali su Ok, aspettate Che torsioni riesce a fare questo Con questo folletto? Ma che braccio c'hai? No, devi scendere giù Ah, sta vomitando Devi andare di là Ok, sali su Sali su Ok, zio Vai da quel lato Perfetto Vai, vai, vai Girati, girati Bravo Dai, dai Ok, raga Non sapevo che poi avessimo anche il folletto Per pulire la finestra Dai, è così Ma c'è pure la parte sopra da pulire No, non ci credo Ma quanto l'hanno sporcata sta finestra Dico io Ma un po' d'attenzione No Io se sporco la finestra così a casa mia Mia mamma mi ammazza praticamente Questi tranquilli Chiamano l'impresa pulizia Per pulire la finestra Dai, dai, dai Vabbè, aspettate un attimo Continuiamo a salire Continuiamo a salire C'è tutta la parte sopra Mamma mia Ma sto coso è un poco È un poco ammurrato Come si direbbe in siciliano Signori Ammurrato vuol dire un poco Lento Un poco appioppato Dai, dai Pulisci sta finestra Mi sono rotto le scatole Dai, dai Veloce, veloce, veloce Veloce Scendi Gira di lì Vai, vai Accelera Faccia Faccia infurios Faccia infurios Di là Vai così Gira e scendi giù Ok L'abbiamo pulita tutta Non tutta Manca questo Manca lo spigolo là sopra Perfetto Poi se non sbaglio Manca lo spigolo là Ok Dovrebbe essere tutta pulita No? Forse manca un pezzettino qui Devi girare su te stessa Sta facendo vomitare Questa aspirapolvere Raga Devi Ok Dovremmo esserci Dovrebbe essere tutta pulita No Forse manca questo pezzo qua Che l'albero mo ti inganna L'albero mo ti inganna E noi però non ci facciamo ingannare dall'albero Sali 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 Va bene No Verso l'alto Ok Dovremmo esserci Tieni per pulire No Ho finito di pulire zio Che cos'è che non è ancora pulito Ah ok Ce l'abbiamo fatta C'è un'altra macchia di vomito Dove? Ah qui Vai così Il tavolone Puliamo anche il tavolone Dovremmo aver completato tutto Signori miei Tavolone ho completato Tavolone pulito Penso che Tieni premuto Dovremmo aver pulito tutto Ah qui Nella cassetta degli attrezzi Ok Tutti con l'ordine sono finiti Perfetto Signori miei Tieni Invio per completare l'ordine Invio signori miei Andata Esvita al 100% Poi termina 397 euro Cioè abbiamo chiesto 397 euro Per pulire un garage E una finestra Cioè da arresto Da arresto E buttare la chiave Proprio signori miei Da arresto E buttare via la chiave Ok signori Siamo tornati qui a casa Posso pulire io Questa porta Che è veramente Oberbriosa La posso pulire un po' Col mocio magico Il mocio magico Fa questi miracoli No Il mocio magico Non fa questi miracoli Ok Stiamo un attimino calmi Ehm Mi ritai un attimino Qua l'attrezzo qui Del Spostiamo questo piatto Me lo metti Ehm Sul comodino No me lo può Sì sul comodino Me lo può mettere sul comodino Mettimelo sul comodino Bellissimo Il piatto sul comodino Ci sta Che è una cosa bellissima La tazza Me la ciappi pure Perfetto Me la metti Qui sul balcone Che così Quando c'ho voglia Di prendermi un po' Di tè Ce l'ho lì Il cucchiaino Me lo metti pure Qui sopra Qui A fianco alla tazza Dove stai il cucchiaino Dove stai il cucchiaino Perfetto Ok Fatto questo Io andrei a recuperare Il mobile qui da cucina Perché non mi sembra il caso Di lasciarlo Di lasciarlo lì fuori In retromarcia Lo riportiamo dentro E lo ripiazziamo Al suo posto Signori miei Riesci a ripiazzarlo Lì dove stava Riesci a ripiazzarlo Lì Un po' più indietro Un po' più sinistra Ok Perfetto Ci riesci a chiudere La sistema Nel sportello E sempre C'è qualche problemino Con lo sportello Però va bene Meglio niente Non l'abbiamo messo Proprio in linea Dovebbe andare un po' più indietro Ma ce ne freghiamo altamente Va bene così Ma è sporco Vabbè Non ci interessa raga Per ora a casa nostra È un grande schifo Ma piano piano Sistemeremo tutto Signori miei Piano piano Sistemeremo tutto Detto questo ragazzo Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Che è dato a questa serie Detto questo Noi ci vediamo Sempre qui Con un prossimo contenuto Sul canale E vi lascio Mentre vado un attimo In bagno Per la mia privacy Noi ci vediamo Prossimamente Qui sul canale Bella raga Ciao